Regione Lombardia dà un giro di vite nella lotta ai furbetti di coloro ovvero che occupano le case popolari con stipendi da dirigenti e che quindi non dovrebbero rimanere in quegli alloggi. Colpa della crisi economica e delle sempre più frequenti perdite di lavoro, pagare l'affitto è diventato un lusso anche nelle case popolari. A Milano poi la situazione è a dir poco allarmante. Degli 80 milioni di euro di morosità registrati al 2013 si è passati alla cifra record di 150 milioni di euro contabilizzati agli inizi di quest'anno. Ecco perché ALER, la società regionale che si occupa di edilizia popolare, ha dovuto mettere mano al lungo elenco di inquilini che non pagano il canone di affitto. In tutto sono 16.000 le famiglie milanesi che non versano quanto pattuito. Un problema non da poco che ALER ha deciso di affrontare avviando un vero e proprio controllo a tappeto. Risultato, fino ad ora sono emersi 150 casi di persone che non pagano benché il loro bilancio familiare potrebbe tranquillamente permetterglielo. C'è chi dichiara di avere un sussidio da 3.000 euro all'anno ma nasconde due appartamenti di proprietà a Milano. Oppure chi dichiara 6.000 euro ma ha un lavoro dipendente con buste paga da oltre 3.000 euro al mese. Stiamo riorganizzando il sistema ALER in Lombardia e ci stiamo occupando dei furbetti. Dai primi controlli sono emersi delle situazioni kafkiane. Casa ALER da 100 euro al mese, guadagno di 3.000 euro più intestatari di altre case. È una lotta senza quartiere che si accompagna alla lotta senza quartiere alle occupazioni abusive. Questa è la nostra sfida. Partivamo da una situazione dissestata di 20 anni di mancanza di politiche per la casa non solo in regione Lombardia ma in Italia. Pensiamo agli sfratti prorogati adesso negli ultimi 4 mesi. Noi contiamo nei prossimi 3 anni di mettere al centro il tema della casa con fatti concreti. L'ultimo, 2014, 66 milioni di euro dedicati alle ALER e in particolare a quella di Milano. E anche sotto il profilo delle occupazioni abusive, piaga che sta attanagliando da anni le periferie milanesi, ALER ha deciso di riprendere gli sgomberi degli stabili maggiormente interessati al problema. Partivamo da dati allarmanti. C'è un programma insieme al condiviso con il prefetto di Milano e stiamo andando avanti negli sgomberi. Soprattutto poi le occupazioni in fragranza sono ormai aumentate. Siamo quasi al 95%. Ci sono stati più di 400 interventi da parte di ALER Milano. Adesso anche il Comune di Milano sta accompagnando la nostra azione politica attraverso la sua azienda che gestisce le sue case popolari che è M&M. Grazie. 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 Grazie.